Per introdurre il discorso diamo subito un esempio grafico. Abbiamo tracciato un grafico generico di funzione, evidenziando tre punti che corrispondono ad altrettanti valori della x. I punti A, B e C sono punti di estremo per la funzione. In particolare A è un punto di massimo relativo, relativo perché la funzione assume anche valori maggiori. B è un punto di minimo, relativo perché la funzione assume anche valori minori. C è invece un punto di massimo assoluto, perché corrisponde al valore maggiore della funzione nel suo dominio. Notiamo anche che in tutti e tre i punti la funzione è continua e anche derivabile. In quest'altro esempio D è un punto di minimo assoluto, perché è il valore minore che la funzione assume nel suo dominio. Notiamo che a differenza dell'altra funzione, la funzione è sì continua in x4, ma in questo caso non è derivabile. Infatti il grafico presenta in D un punto di cuspide. Per approfondimenti vi rimando al mio video sui punti di non derivabilità di una funzione. Possiamo fare alcune considerazioni relative ai punti di massimo e minimo. In questi punti la funzione è continua ma non necessariamente derivabile. Inoltre, la funzione cambia pendenza nell'intorno del punto. Prima di un punto di massimo cresce e dopo il punto decresce, prima di un punto di minimo decresce e dopo il punto cresce. Inoltre, nei punti di massimo e minimo in cui la funzione sia continua che derivabile, la derivata prima si annulla, come possiamo notare dal fatto che la tangente alla funzione in quei punti è orizzontale. Possiamo dare allora una strategia generale per la ricerca di massimi e minimi, che si baserà, come detto prima, sullo studio della derivata prima, ricercandone i punti nei quali si annulla e gli intervalli in cui è positiva e negativa. Ricordiamo che dove la derivata prima è positiva la funzione cresce e dove è negativa la funzione decresce. I punti su cui concentreremo la nostra attenzione saranno quelli in cui la funzione è continua e la derivata prima si annulla e quelli in cui la funzione è continua ma non derivabile. Infatti, questi ultimi possono essere massimi o minimi anche senza che la derivata si annulli. Possiamo trovarci di fronte a quattro casi, a seconda del segno della derivata prima e dopo il valore di x in questione. Se la derivata prima non cambia segno, abbiamo a che fare con punti di flesso, che possono essere a tangente orizzontale o verticale e sui quali non ci soffermeremo in questa lezione. Se invece la derivata cambia segno, siamo di fronte a punti di minimo e massimo. Come abbiamo visto nel grafico di prima, possono essere relativi o assoluti e per comprenderlo al meglio possiamo farci aiutare dai limiti. Se la funzione tende a più infinito, i massimi potranno soltanto essere relativi. Se tende a meno infinito, i minimi potranno essere soltanto relativi. Ma bando alle chiacchiere e vediamo gli esercizi pratici. Vediamo il primo esercizio, nel quale abbiamo a che fare con una funzione polinomiale, definita per tutte le x appartenenti ad R. Inoltre, studiando nei limiti, la funzione tende sia a più che a meno infinito, rispettivamente per x che tende a più e meno infinito. Questa informazione ci è utile per capire che i punti di estremo saranno relativi. Deriviamo la funzione. Anche la derivata è definita per tutte le x appartenenti ad R, quindi non ci sono punti nei quali la funzione è continua ma non derivabile. Studiamo il segno della derivata prima, imponendo la sua espressione maggiore o uguale a zero. L'uguale ci permette di trovare anche i punti in cui questa si annulla, senza bisogno di studiarne a parte l'annullamento. La disequazione ha soluzioni per x minore uguale a meno radice di 2 e x maggiore uguale a radice di 2. Rappresentiamo le soluzioni sulla retta numerica e poi il segno della derivata, trovando gli intervalli in cui la funzione cresce e decresce. In corrispondenza di meno radice di 2 e radice di 2, possiamo trovare due punti della funzione. Entrambi sono estremi relativi, infatti abbiamo visto prima che la funzione tende a valori infiniti sia positivi che negativi. In P1 abbiamo un massimo e in P2 un minimo. Vediamo il secondo esercizio. La funzione è irrazionale ed è definita per le x comprese tra 0 e 3, con estremi inclusi. Derivando si ottiene questa espressione, definita per le x comprese tra 0 e 3, con estremi però questa volta esclusi. Ciò vuol dire che ci saranno due punti nei quali la funzione è continua ma non derivabile e corrisponderanno ad x uguale 0 e x uguale 3. Come prima, studiamo il segno della derivata prima. Per risolvere la disequazione fratta, studiamo separatamente il segno di numeratore e denominatore, ricordando di imporre il denominatore solo maggiore di 0 perché non può annullarsi. Ricaviamo poi i risultati delle disequazioni, ricordando che la radice quadrata è sempre positiva nel suo campo di esistenza ed è moltiplicata per un numero positivo, il 2. Rappresentiamo i valori estremi sulla retta numerica, che restringiamo al dominio della funzione, e poi riportiamo i segni di numeratore e denominatore. Moltiplichiamo poi i segni intervallo per intervallo per trovare il segno finale della derivata e gli intervalli nei quali la funzione cresce e decresce. Notiamo che nonostante 0 e 3 non siano inclusi nelle soluzioni della disequazione, sono punti che ci interessa studiare, perché la funzione in essi è continua. Quindi 0, 3 mezzi e 3 saranno i valori di x a cui corrisponderanno 3 punti, che troviamo sostituendo i valori nella funzione. Analizzando il segno della derivata, deduciamo che p1 e p3 sono punti di minimo e p2 un punto di massimo. In tutti i casi sono estremi assoluti, perché la funzione non assume né valori più grandi né valori più piccoli. Precisiamo che il valore minimo assunto dalla funzione è 0, toccato in corrispondenza di x uguale 0 e x uguale 3. Quindi il valore minimo assunto è 0, valore unico, ma a questo corrispondono due punti, appunto p1 e p3. Vediamo il terzo esercizio. Questa funzione è definita per le x maggiori di 0, dominio che si ottiene imponendo la condizione di esistenza del logaritmo, argomento maggiore di 0, e della frazione, x diverso da 0. Inoltre sappiamo che i limiti all'estremo 0 più vale meno infinito, e a più infinito vale 0. I limiti ci dicono che eventuali minimi saranno minimi relativi, ed eventuali massimi potrebbero essere assoluti. Derivando la funzione, scopriamo che anche la sua derivata prima ha lo stesso campo di esistenza. Questo vuol dire che non ci saranno punti in cui la funzione è continua ma non derivabile, e dovremo focalizzarci solo sui punti che annullano la derivata. Studiamo allora il segno della derivata stessa, separando numeratore e denominatore. Il denominatore è sempre positivo tranne che per x uguale a 0, nel quale si annulla. Il numeratore è positivo tra 0 ed e, con quest'ultimo estremo incluso. Rappresentiamo la retta numerica includendo soltanto il dominio della funzione. Rappresentiamo poi le soluzioni delle disequazioni e ricaviamo i segni intervallo per intervallo, trovando gli intervalli nei quali la funzione cresce e decresce. L'unico valore di nostro interesse è x uguale a e. Questo corrisponde al punto P1, che, analizzando il comportamento della funzione, è un punto di massimo. Possiamo affermare che si tratta di un massimo assoluto, perché, come ci hanno detto i limiti, la funzione non tende a più infinito, e quindi è a questo punto che corrisponde il valore maggiore assunto dalla funzione nel suo dominio. Vediamo il quarto esercizio, nel quale abbiamo a che fare con una funzione esponenziale. Questa è definita per le x diverse da 1, e per x che tende a 1 da sinistra e da destra tende a meno e più infinito. Eventuali punti estremi saranno estremi relativi. Derivando, otteniamo questa espressione, che ha lo stesso campo di esistenza della funzione. Studiamo il segno della derivata prima. Qua possiamo semplificarci la vita notando che il termine e elevato x è sempre positivo, e quindi non andrà a cambiare il segno della frazione. Possiamo trascurarlo nello studio del segno. Risolviamo le due disequazioni, ricordando che dovremo escludere l'uno dalla seconda. Rappresentiamo poi come al solito le soluzioni, ricavando anche il segno della derivata prima e le sue preziose informazioni sulla pendenza della funzione. L'unico valore di nostro interesse è x uguale 2, dato che la funzione non è definita in x uguale 1. A x uguale 2 corrisponde il punto P1, che, analizzando il segno della derivata, scopriamo essere un punto di minimo. Sarà un minimo relativo, come abbiamo detto in precedenza parlando dei limiti della funzione. Nel quinto esercizio, nella funzione è presente il valore assoluto. La funzione è definita per ogni x appartenente ad R, e agli estremi del campo di esistenza tende a più infinito. Allora eventuali punti di massimo saranno relativi, ed eventuali minimi potranno essere assoluti. Per semplificarci la vita, sciogliamo il valore assoluto, trovando due diverse definizioni della funzione. Deriviamo ogni espressione. I due tratti della derivata sono funzioni continue in ogni punto. Dovremo verificare anche la derivabilità nel punto 0, punto di separazione degli intervalli. Per farlo, andiamo a fare i limiti sinistro e destro in 0 della derivata prima. Poiché questi hanno diverso valore, finito, la funzione non sarà derivabile in 0 e avrà un punto angoloso. Vi rimando al mio video sui punti di non derivabilità per approfondimenti. Dovremmo tenerne conto, perché potrebbe essere un punto di estremo. Studiamo il segno della derivata impostando due sistemi. Dovremmo confinare ogni disequazione della derivata nel suo intervallo. Risolviamo le disequazioni e poi rappresentiamo come al solito le soluzioni. Della prima disequazione ci interessano le soluzioni prima di 0 e della seconda dopo lo 0. Combinando questi due risultati otteniamo il segno della derivata prima con le sue informazioni. Ci interessano tre valori della x, x uguale a meno 3 mezzi, x uguale 0 e x uguale 3 mezzi, a cui corrisponderanno tre punti della curva. Analizzando il cambio di pendenza scopriamo che sono due minimi e un massimo. Dalle informazioni che abbiamo sui limiti, i minimi saranno assoluti, anche perché in essi la funzione ha lo stesso valore, meno 9 quarti, e il massimo sarà relativo. Notiamo che il punto di massimo sia in corrispondenza del punto angoloso della curva. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!